Salve a tutti ragazzi, sono Typhoon e oggi vi voglio portare Clash Royale sopra intraprendere la strada verso l'arena leggendaria e vediamo un attimino come va intanto facciamo l'opening di questo baule ovviamente non ci da un cazzo, vi faccio vedere che comunque con questo mazzo qui non va proprio male 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 se infatti vi faccio vedere le partite guardate che più o meno le sto quasi tutte vincendo, più o meno ora vediamo, vediamo, innanzitutto di raggiungere il baule della corona e cerchiamo di vincere, poi sapete che quando si registra ovviamente si perde sempre proviamoci dai, vediamo un attimino che ci do, intanto metto ah, io comunque non gemmo, non sono uno scioppone arena leggendaria, wow, ci sono arrivato, quante corone ho? non ho io le corone per l'arena leggendaria questi mi sa che ci fanno al culo allora allora, difendiamo subito con i nostri fuochettini infiammati fuochettini infiammati, se può sentire e vogliamo passare al controattacco forse non è stata una mossa molto saggia vai bello, 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 vai, 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 uh, che bello mi sa che la torre va giù ma soprattutto speriamo che sto registrando, se no mi avvelino allora, la torre sua sta a metà la mia sta... che dici? ma si, facciamo un attacco valchiria eh, ma così spreco tutto l'elisir però infatti non è andata bene ragazzi per niente proprio no ora lui sta... penso che dovrebbe avere più o meno l'elisir comunque più della mia va bene ahia difendiamo dobbiamo arrivare 8 per provare a fare questo attacco forse è meglio recuperare l'elisir tra 13 secondi c'è l'overtime e possiamo andare a chiudere la partita con l'overtime proviamoci no cazzo, ho sbagliato te l'ho messo col minatore dai va bene so non va male so perché devo sbagliare così? perché? no 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 non può andare così non può assolutamente andare così sto facendo... sto buttando le cose a cazzo 3... 2... 1... ne facciamo un'altra vedi 2947 e infatti mi ha scalato di arena era giusta per farmi assaggiare l'arena leggendaria va bene ragazzi dai è andata così e giustamente che cazzo mi dici... eh vabbè vabbè la trolla all'ero di nonna da va bene ma non ho più la zap però infatti giustamente lui c'è là perché deve... perché bisogna sempre avere... perché c'erano sempre le cose contrarie alle mie forse... è una mossa buona questa qua sì... non c'è andata male decisamente no e la torre va giù bene recuperiamo un po' di Elisir ci mettiamo una Valkyria maori ok ora andiamo con che cosa andiamo? con che cazzo andiamo? facciamo così no vabbè proviamo a buttarcela giù la nostra è andata giù proviamo a buttarci giù perfetto possiamo vincerla questa ragazzi possiamo vincerla e andare proprio sulle tre su tutte quante proprio a farci male così sì 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 le tre corone sono le nostre e vai piangi 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 ora ci facciamo il cesto opening della... del baura della corona qua del baura della corona non si può sentire ovviamente è leggendale quel cazzo che c'è l'età sì il baura della corona si chiama che cazzo sto di ma che sto umbriaco va bene ragazzi spero che il video si... va bene ragazzi va bene va bene spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando mettete like se non siete iscritti iscrivetevi ci vediamo alla prossima bella...